Amici della tecnica, colleghi professori, buongiorno. Subito una domanda. Qual è, secondo voi, il più grosso problema col quale la scuola italiana dovrà confrontarsi quest'anno da nord a sud? Il covid? No no, l'educazione civica. Educazione civica, questa materia che ci è piombata così tra capo e collo e che ci fa un pochino pensare a degli scenari polverosi, ottocenteschi, di amici siani, educazione civica, questa denominazione un po' antica, chi la deve insegnare, come la deve insegnare. Possiamo provare a renderla un attimo più frizzante, un po' più dinamica, un po' più moderna per i ragazzi di oggi? Come? Almeno per qualche segmento. Immaginiamo un obiettivo classico dell'educazione civica che potrebbe essere gestire, creare con gli altri una relazione sana, una relazione seria, una relazione trasparente. La lettura di questo libro, bellissimo romanzo, breve romanzo alla fine di Fabrice Garot, Il discorso, ci potrà dare degli spunti davvero interessanti per sviluppare con i nostri alunni un segmento su questo tema, su questa tematica, sulla tematica dell'ipocrisia nei rapporti umani, anche dei rapporti umani più profondi, tra padri e figli, tra fratelli e sorelle, tra fidanzati. Quindi vi consiglio caldamente di leggere questa storia profonda, ma al tempo stesso comica, divertente, con dei tratti di comicità davvero scoppiettanti e imprevedibili, impensabili. Non è facile realizzare un connubio tra profondità e comicità. Quindi il mio consiglio è leggete questo libro e sicuramente ne trarrete giovamento, voi e i vostri alunni soprattutto. Alla prossima! Grazie a tutti!